Presentate questa mattina le manifestazioni estive per Bordighera, che cosa ci dobbiamo aspettare per l'estate? Ci aspettiamo naturalmente un'offerta molto interessante per quanto concerne questi quattro mesi che va a partire dal mese di giugno al mese di settembre, circa 140 spettacoli, 93 gli eventi, una copertura come ho detto di quattro mesi dove sui mesi di luglio-agosto naturalmente avremo quello che è la concentrazione maggiore di eventi, lo scheletro principale delle manifestazioni è sempre dato dall'orchestra sinfonica di Bordighera, che fanno una serie di concerti ai Giardini Löw, la manifestazione Tu Que L'Or che invece si tiene all'Arena da Cibretta, in Bordighera Alta che vede la presenza come autore di maggior rilievo Wadier, dopodiché abbiamo di nuovo ai Giardini Löw la musica d'autore, la quinta edizione quest'anno con Camerini, Alice, Tricarico ed altri artisti di alto profilo e comunque sia di importanza su quanto concerne la musica d'autore. Per quanto riguarda invece gli spettacoli nelle aree, quelle dei due borghi storici Borghetto e Sasso, a Borghetto è stata data massima attenzione a spettacoli dedicati ai bambini e invece a Sasso viene ripetuto per secondo anno gli artisti di strada che saranno presenti durante le serate enogastronomiche promosse dal Proloco di Sasso. Altri spettacoli saranno presso il Chiosco della Musica su Lungomare Argentina, un'offerta che va incontro a quelle che possono essere le richieste dei nostri turisti e dei nostri cittadini che ricordo essere dalla fascia dei bambini fino alla fascia delle persone più adulte. L'ultimo canale a rimanifestazioni di questo suo mandato amministrativo, tempo per fare un bilancio, che cosa lascia la città dal punto di vista degli eventi e delle manifestazioni? Lascio la città, prima di tutto una cosa da quale sono molto orgoglioso che è la nascita dell'orchestra sinfonica di Bordigliere che nasce proprio nel 2013 con il suo primo concerto, primo gennaio del 2014. Una sfida importante che ha visto la mia amministrazione accoglierla e quindi termino mio mandato con un'altra stagione di concerti estivi, un progetto nel quale io credo, ho creduto e soprattutto oggi che incomincia ad avere i suoi primi veri risultati, la possibilità di contatti con altre orchestre sinfoniche e quindi andare a suonare fuori dai confini Bordigotti, già è successo, il prossimo potrebbe essere a Poitiers in Francia, la presenza dell'orchestra sinfonica, della giovane l'orchestra sinfonica di Neckersum che proprio lo scorso weekend ha fatto il concerto a Bordighiera, quindi questi 50 ragazzi che sono arrivati da Neckersum che seguito proprio del gemellaggio nostro con Neckersum, ma soprattutto di aver riunito, rivisto quello che erano i rapporti di amicizia tra le nostre due città, ha portato proprio questi ragazzi a venire a Bordighiera e il prossimo passaggio sarà la nostra orchestra sinfonica che andrà a suonare, Neckersum a suonare. Quindi questa è una cosa alla quale io tengo molto e spero comunque sia, si lavori sempre per la crescita progressiva di questa orchestra sinfonica, che ricordo non avere contributi, cioè vale a dire la orchestra sinfonica vive grazie alla bigliettazione e ai concerti che vengono pagati da parte poi dopo della parte del Comune di Bordighiera. Però gli artisti non sono a busta paga del Comune. L'altra cosa è invece la musica d'autore, nata anche lei sei anni fa, con me fortemente potenziata e quindi cosa vuol dire? Vuol dire che ogni anno ci impegniamo, anche se di poco, ma possono essere 2-3 mila euro in più, che comunque ci permette di rinegoziare per tempo con l'associazione Spettando Godot, che organizza per conto del Comune di Bordighiera, quello che può essere il portfoglio, se così lo vogliamo definire, degli artisti. Quindi sapendo che è un evento che è in calendario, noi già da oggi si incomincia a parlare per il prossimo anno, perché questo ci permette, avendo già contattato gli artisti, di metterli in calendario e comunque per un ente pubblico vuol dire anche risparmi di soldi, perché non arriviamo all'ultimo, ma arriviamo con largo anticipo. Quindi se devo fare un costruttivo finale, devo fare un costruttivo molto positivo, di presenze, di soprattutto gradimento delle manifestazioni che abbiamo dato, tutto naturalmente è migliorabile, tutto può essere rimodulato a seconda di quello che poi dopo può essere la diversa presenza sul territorio. È chiaro che ci sono cose che, secondo me, non devono essere modificate perché si crea l'aspettativa dell'evento ogni anno. Se io so che ogni anno o in quella data o in quel periodo il concerto dei più tu color o la musica d'autore, io creo l'aspettativa nel mio spettatore, nel turista, sapendo che l'anno dopo ci sarà e quindi comunque sia l'evento diventa più importante e si comunica all'esterno. L'interruzione di queste cose qua vuol dire ripartire da zero. Ripartire da zero vuol dire comunque sia grande difficoltà perché o fai quello che tutti molti auspicano, il grande evento, ma ricordo che il grande evento, il grande nome di grido porta 48 ore di importanza, ma poi dopo finisce tutto. Siccome noi abbiamo una stagione che è di quattro mesi, non possiamo concentrarci due giorni in quattro mesi. Grazie.